Dalla promozione in B con il Castel di Sangro all'Europa con l'Italia Gabriele Gravina, presidente FIGIC, 25 anni dopo In diretta su Rete 8 Sport, tavola rotonda condotta da Leopoldo Gasbarro, direttore Wall Street Italia Da Piazza Plebiscito a Castel di Sangro, martedì 27 luglio alle 21 su Rete 8 Sport, canale 11 del Digitale Terrestre e www.wallstreetitalia.it Gravina